di tutta l'America Latina, oltre i 15 CD già prodotti, hanno vinto tutti i premi che c'erano da vincere, io sto tremando, ma qui in Piazza Duomo, a Milano, abbiamo, cerco di dirlo bene, Renasser Frey! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.